Ha cercato di ucciderci. Cosa hai fatto? Quello che dovevo fare per arrivare a te, Teddy. Il leggendario Bob Wittick. Sei uno psicopatico. Sono un professionista. Hai fatto incazzare quelli sbagliati e ora ti uccido. Nessuno uccide nessuno qui. Anthony Lamb. C'è una certa competizione per Theodore Muretto. Bob, duello all'ultimo sangue? Vedi la differenza? Quello è uno psicopatico. Non faremo nessun accordo. Andiamo, Teddy. Sai come funziona. Teddy Muretto non morirà! Arrivano. Devo sapere ogni cosa. Dovevi lasciare che gli facessi saltare la testa quando potevo. Ti prego, arrestatemi! Qualcuno aiuti quest'uomo! Così morirà! Ha, 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 ha!